Cioè, ma io sto letteralmente registrando questo video, non ci sto credendo. Spero veramente che la persona alla quale ha indirizzato il video non lo veda mai. Non lo guardare, vi prego. Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo video. Oggi raga, sono tornata con un format nuovissimo sul mio canale che non ho mai mai fatto. Questo video infatti è una story time, ovvero vi vado a raccontare una storia della mia vita che è successa poco tempo fa, che forse vi interesserà perché di mezzo c'è un ragazzo. Ma non voglio farlo normalmente, infatti lo farò tramite dei disegni che sto facendo io nell'iPad. Quindi voi vedete la storia mentre io la disegno. Siete pronti? Io non vedo l'ora. Ovviamente scrivetemi nei commenti se questo genere di video vi piace e mettetemi un cuoricino se approvate. Allora, non so nemmeno da dove iniziare. Devo fare delle premesse. Non farò i nomi delle persone presenti in questo story time per privacy. Metterò qualche screen ma soltanto cose coperte dove non si leggeranno né messaggi né nomi. E niente, detto ciò pensavo di iniziare. Vediamo. Allora, tutto ha inizio in un giorno di ottobre in cui io e la mia migliore amica andiamo a cena fuori a mangiarci una pizza insieme. Siamo sedute al nostro tavolo quando ad un certo punto noto nel tavolo a fianco un altro tavolo dove c'era un ragazzo che raga ve lo giuro era uguale, identico a Rondo. Io ovviamente mi sono subito innamorata, cioè voi sapete la mia passione per Rondo, ok? E oltre ad essere una passione come cantante, a me piace anche molto come ragazzo, cioè esteticamente. Quindi questo ragazzo assomigliava a Rondo, ma attenzione, non era uguale nel senso con le treccine, tutto rapper. No, no, no. Assomigliava a Rondo da giovane. Cioè, adesso vi allego qualche foto di Rondo quando aveva tipo i capelli corti, che sembrava molto più ragazzino. Ecco, questo ragazzo aveva dei lineamenti molto simili, quindi io appena l'ho visto, dico alla mia migliore amica, amo, io devo assolutamente scoprire chi è questo ragazzo. La mia migliore amica mi risponde dicendo che amo, io l'ho già visto. Ma come, l'hai già visto? No, non ci credo perché mi dice che ha una faccia familiare. Allora dico, no, adesso mi devi assolutamente dire chi è, dove l'hai visto e come l'hai visto perché io voglio scoprire nome e cognome di questo ragazzo, perché mi sono innamorata. Soltanto che non avevamo alcuna traccia perché non si ricordava bene, quindi passa tanto tempo, più o meno passerà un mese all'incirca, senza avere tracce di questo ragazzo. E io me ne dimentico, cioè non è che me ne dimentico, me lo ricordo, però non ci penso perché comunque l'ho visto una volta e basta, cioè scialla alla fine. Così cosa succede? Un giorno, più precisamente il 17 novembre di quest'anno, quindi poco tempo fa, un mesetto fa, io come al solito vado a vedere il nuovo post che ha pubblicato Rondo, perché lo seguo su Instagram, e lascio un commento, questo commento è vamos con un cuore blu perché ero tutta gasata perché stava annunciando l'uscita di una nuova canzone, no? Quindi immaginatevi questo commento, scusito, vamos! Io tutta contenta. Ad un certo punto in università, visto che mi stava annoiando, vado a scrollare tutte le persone che mi avevano messo like al commento, che erano ben 93. Cioè ragazzi, tra 93 persone mi sono messa a guardare ogni singolo profilo, entrando e guardando il nome e la foto profilo e un attimo, cioè ma velocissimamente proprio. Io ve lo giuro che questa cosa non la faccio mai, cioè non l'ho mai fatta proprio perché non ho voglia di andare a guardare queste cose, ma quel giorno mi annoiavo così tanto che mi sono messa a guardare. E per fortuna l'ho fatto ragazzi, per fortuna l'ho fatto! Ad un certo punto noto un ragazzo e che entrando nel profilo aveva scritto nella sua bio di Instagram la stessa città in cui io l'avevo incontrato. Ovviamente non vi dico la città perché voi siete gli stalker e lo andate a trovare. E guardando i post, cioè io mi rendo conto che era lui raga, era il ragazzo che avevo visto un mese prima con la mia migliore amica, ma lui non mi seguiva, quindi era stranissimo che mi avesse messo like al commento così, sotto il post di Rondo poi. Non so se state un attimo capendo la situazione, ma io avevo visto un ragazzo che era simile a Rondo, poi un mese dopo che l'avevo perso lo trovo sotto un post di Rondo perché mi ha messo un like senza nemmeno seguirmi. E' stranissimo! Io raga ve lo giuro non ci stavo credendo, quindi la prima cosa che faccio è mandare ovviamente lo screen alla mia migliore amica. Io tutta gasata, amo non ti rendi conto, guarda chi ho trovato e gli mando lo screen del profilo. Mentre succede tutto ciò mi rendo conto che lei mi manda un audio e nell'audio lo ascolto e mi diceva testuali parole. Amo non ti immagini, ho trovato il tizio che assomiglia a Rondo, è in corso con me all'università. Raga, lo stesso giorno dopo un mese contemporaneamente l'abbiamo trovato tutte e due. Cioè ma questo, raga, questo è il destino, questo è il segno del destino, io ci credo, da questo evento in poi io credo nel destino, veramente. Io e la mia migliore amica ovviamente scioccate perché nemmeno noi avevamo capito della cosa, cioè cosa era appena successo. Quindi veramente io super contenta che l'avevo trovato, lei è contenta perché l'aveva visto in un corso all'università, però ovviamente non era andata lì a parlargli, cioè l'aveva soltanto guardato e mi ha detto che mi assomiglia molto a lui, quindi io sono sicura al 90% che è lui. Poi comunque lei fa l'università in quella città in cui noi l'avevamo visto, quindi era palese. Quindi dopo un mese l'abbiamo trovato, abbiamo il bottino. Ma adesso inizia tutta la storia perché ragazzi non è finita qui, dato che io sono un po' timida diciamo, mi vergognavo di iniziarla a seguire perché comunque non aveva senso, immaginatevi lui che si trova una tizia come me che l'inizia a seguire da un momento all'altro così senza motivo. Quindi cosa ho fatto? La mia mente malata da ragazza gli ha messo un like tattico ad un post che questo like tattico non è stato mai cagato, cioè detto proprio sinceramente tra di noi non mi ha mai ricambiato il like, sempre rimasto lì, buono, chi si è visto si è visto, mai seguita, nè niente. Quindi raga io disperata ho detto vabbè non gli interesso probabilmente, magari non ha notato il mio like, non lo so, però lascio perdere perché comunque mi vergognavo troppo. Raga io vi giuro che volevo lasciar perdere ma non ci riuscivo, era più forte di me perché io quando avevo visto quel ragazzo mi si era accesa una scintilla in testa, cioè io lo dovevo conoscere perché lui era mio marito, cioè letteralmente. Io mi pentirò a dire queste robe comunque in un video. A questo punto cosa succede? Lui non sapeva della mia esistenza, io sì non lo seguivo, lui non mi seguiva, io gli inizio a guardare tutte quante le storie ogni giorno, però attenzione non lo faccio con il mio profilo perché se no potevo essere scoperta da un momento all'altro, ma lo faccio con un profilo che non esiste, cioè un profilo dove non c'è né immagine profilo né niente, cioè solo così per stalkerare un po' di gente. Quindi era impossibile che mi riconoscesse, che arrivasse a me in qualche modo, cioè stavo tranquilla, quindi guardavo ogni volta le sue storie perché volevo capire un attimo che tipo di persona fosse, i suoi interessi, cioè era un po' interessata a capire, no? Passa un mese, più o meno, qualche settimana e io raga mi convinco, mi dico ok adesso io devo fare la prima mossa e lo devo iniziare a seguire io con il mio profilo, poi vediamo se lui mi ricambia il follow, vediamo cosa succede. Per fare questa cosa io aspetto un momento ben preciso, dato che lui mi ha messo like ad un post di Rondo, questo fa capire che anche lui ascolta Rondo, quindi anche a lui piace Rondo, ascolta la sua musica, quindi ho detto, dato che io devo andare a release party dell'album di Rondo a Milano, infatti sono stata invitata a questo party in cui Rondo e Arti5 hanno cantato live per la prima volta il loro album, lo inizio a seguire qualche giorno prima dell'evento di Rondo, così lui vede le mie storie, cioè mi rinizio a seguire, vede le mie storie e magari è più interessato perché vede che comunque ho qualche contatto diciamo con Rondo, non lo so, cioè ho fatto un ragionamento in testa che per me aveva senso, ok? Probabilmente non lo aveva, ma per me lo aveva. Così ho fatto, l'ho iniziato a seguire, lui mi ha ricambiato ovviamente il segui e ho pubblicato una storia all'evento di Rondo. Io raga non sbaglio mai, infatti ci ho azzeccato tutto. A quella storia lui mi ha messo like, cioè avete capito che si può mettere tipo like alle storie, ha messo un cuoricino alla storia molto semplice. Io raga a Milano di notte quando ho visto sto like, tutta quanta gasata che dico ce la sto facendo in tutto ciò che diceva la mia migliore amica. Vediamo, vedi che i miei piani non sbagliano mai, sono sempre al top. Niente, quindi mi mette like a questa storia, però questo like non bastava, bisognava arrivare a qualcosa in più per arrivare in contatto, per parlarci. Cosa succede raga? Il giorno dopo, ve lo giuro, il giorno dopo io ancora ero a Milano a casa di una mia amica, mi trovo la notifica di lui che mi risponde alla storia con scritto come è andato il release party. Io raga, morta, cioè praticamente ero riuscita, cioè ero riuscita, tutto quello che io avevo programmato si era avverato, sono una maga, sono una fata. Va bene, mi risponde a questa storia e io ovviamente inizio a parlarci, mi rispondo eh no tutto bene, comunque molto bello e lui mi fa tipo eh beata te comunque che sei andata lì e io eh sì e quindi io ho iniziato un po' a raccontare un po' tutta quella che era la mia vita, tutte le mie esperienze che avevo fatto no e iniziamo a parlare. Raga, io ve lo giuro che dal primo momento in cui ci ho parlato mi è subito sembrata una persona molto molto affine a me, cioè ci siamo trovati subito in sintonia, nel senso che non c'era imbarazzo anche se ci stavamo scrivendo letteralmente da mezz'ora, avevamo un sacco di argomenti di cui parlare, lui era super interessato alla mia vita, cioè lo vedevo super connesso, quindi io ero super contenta, cioè mi sembrava di aver trovato non lo so la mia anima gemella proprio. Quindi nel giro di pochi giorni continuiamo a parlare, ovviamente ci scambiamo i numeri, iniziamo a parlare anche su whatsapp, ad un certo punto lui mi fa la domanda che speravo non arrivasse mai, ovvero ma te come mi hai trovato? Raga io ve lo giuro che quando me l'ha chiesto io non sapevo cosa rispondere perché cioè potevo andargli a raccontare tutto quello che avevo fatto per trovarlo, cioè ma mi avrebbe preso per pazza, mi avrebbe detto ciao sorella, chi ti ha visto? Quindi diciamo che ho raccontato la verità ma ho omesso un po' di particolari, ovvero io ho raccontato che l'ho trovato sotto il posto di Rondo ma non gli ho raccontato della sera in cui l'ho visto a cena al ristorante, quindi ho fatto sembrare tutto una casualità, ho fatto sembrare tutto come se non fosse successo ecco. Ma qual è il piccolo problema di tutta questa storia che voi ancora non sapete? Il problema che non è piccolo ma è grande è che in realtà noi viviamo in due città diverse, ma non sono due città vicine, non lo so, nella stessa regione. No raga, no, sono due città che stanno una su e una altrove, ok? Quindi siamo super lontani perché quel giorno in cui io l'avevo trovato ero tornata diciamo nel mio paese d'origine ma in realtà io studio a Venezia e quindi adesso io vivo qui, quindi chi lo vede più? E adesso arriva la parte che voi tutti starete aspettando, ovvero quindi vi incontrerete, ci sarà un appuntamento, qualcosa? La risposta ragazzi per la mia gioia e per la vostra gioia è sì raga, ci incontreremo e io non vedo l'ora perché adesso inizieranno le vacanze di Natale. Quindi con le vacanze di Natale io tornerò nella mia città d'origine che è quella dove vive anche lui e ci siamo organizzati per vederci e per incontrarci, quindi vedremo come andrà questa storia, se mi piacerà ancora, se saremo compatibili, può essere anche chi mi sta antipatico, non lo so, vedremo. Però c'è ancora un altro problema che è molto più grande perché la mia vita raga non è così semplice come voi pensate, cioè ogni volta che mi capita una gioia ci deve essere sempre un problema in mezzo, che bello. Infatti noi siamo a fine dicembre, io ragazzi i primi di febbraio mi trasferisco, questa diciamo che è la prima volta che lo dico sui social, infatti state ascoltando una notizia proprio in diretta, veramente mai detta, ma a febbraio io andrò a fare il semestre all'estero in Inghilterra. No, allora, a parte gli scherzi, io sono super contenta perché non vedo l'ora ovvero di andare in Inghilterra e voi verrete con me perché vi porterò, vi racconterò tutto quello che vedo, quello che faccio, perché vado a studiare lì per sei mesi, quindi saranno comunque tanti mesi, però anche questa diciamo mini storia, che come si può chiamare, andrà buttata nella spazzatura. Perché, cioè io sono un po' triste per sta cosa, ma come fa diciamo a continuare, se noi non ci siamo ancora mai visti, ci vedremo per la prima volta probabilmente la prossima settimana. Non ci basta un mese per conoscerci e mantenere un rapporto anche dopo sei mesi che io vado via, quindi raga la cosa triste è questa, che in realtà mi accadono sempre le cose giuste, ma al momento sbagliato, questa sono io. Va bene raga, questa era la mia storia per adesso, spero che vi abbia entusiasmato perché a me lo sta facendo molto, anche se in realtà mi sta facendo perdere dieci anni di vita perché ogni volta sono prima triste, poi felice, poi triste, poi felice, vabbè non importa. Ovviamente mi dovete seguire perché oramai sarete curiosi di sapere come andrà questo incontro e questa era la storia di come ho conosciuto un ragazzo grazie a Rondo. Spero che i miei disegni durante la storia vi siano piaciuti, fatemi sapere se vi piace questo format e se volete la parte 2 ovviamente dello story time, se volete altre storie, magari vi posso raccontare anche delle storie passate della mia vita, cioè vi posso raccontare qualche mia esperienza, non lo so, scrivetemi nei commenti qualcosa che vorreste sapere, che vi racconto in questo modo. Se il video vi è piaciuto mettetemi un cuoricino, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao e buone feste perché tra poco è anche Natale.